Che cosa sono i tempi in fotografia e come possiamo utilizzarli per ottenere delle fotografie migliori? Se questo è un argomento che vi interessa, reggetevi forte e godetevi questo video dall'inizio alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia prevalentemente per aziende e ovviamente il tempo per me è un fattore assolutamente essenziale. Oggi andrò a spiegarvi cosa sono i tempi in fotografia e come possiamo utilizzarli per andare a ottenere la fotografia che vogliamo in diversi contesti. Se argomenti di questo tipo suscitano il vostro interesse, ovviamente prima di cominciare io vi consiglio di iscrivervi subito al mio canale perché altrimenti dopo ve lo dimenticate. Lasciate anche un like sulla fiducia perché sono sicuro che imparerete qualcosa di interessante. Molto bene, ma comincio col dirvi un dato che secondo me è interessante, soprattutto rapportato a come siamo abituati a vivere e fruire la fotografia oggi. Dovete sapere che una volta i parametri per esporre la nostra fotografia sostanzialmente erano solo due, mentre oggi sono molti di più. Perché vi dico questo? Perché una volta noi sceglievamo un rullino, una pellicola che aveva una determinata sensibilità e una volta scelto il rullino la sensibilità era sempre quella, quindi non era più un parametro, non potevamo più modificarlo. Avevamo un rullino con quella sensibilità e quindi potevamo gestire solamente i tempi e i diaframmi per modificare la nostra esposizione. Oggi tutto questo è cambiato, sia perché abbiamo la possibilità di inserire tante altre lucette, tanti altri altri artifici che ci permettono di modificare l'esposizione, ma sia soprattutto perché la sensibilità ISO viene gestita elettronicamente. Quindi noi non abbiamo più il rullino che ci dà un parametro fisso, ma abbiamo i parametri ISO che possiamo cambiare per modificare la sensibilità. Quindi questa è una complicazione, volendo perché i nostri parametri sono diventati tre. Ma noi oggi ci focalizzeremo solamente sui tempi, dando per scontato che gli altri due parametri siano già corretti per ottenere l'esposizione ottimale. Per fare questo, è una cosa molto facile che possiamo ottenere su qualsiasi fotocamera stiamo utilizzando, è sufficiente che impostiamo priorità di tempi con gli ISO automatici. In questo modo noi stiamo dicendo alla nostra fotocamera che l'unico parametro su cui avremo controllo saranno i tempi, mentre i valori ISO e i valori di diaframma verranno impostati automaticamente dalla macchina per darci sempre un'esposizione corretta. Ora, questa non è una cosa che io ami particolarmente fare, perché delegare parte del controllo che io esercito sull'immagine al processore della fotocamera è una cosa che mi lascia sempre con molti dubbi. Però, devo anche dire che la tecnologia migliora e soprattutto sulle macchine più moderne ho avuto dei buoni risultati anche in tal senso, per cui non ho nessun problema a dirvi che se vogliamo imparare a gestire i tempi possiamo tranquillamente mettere gli altri due parametri in automatico, così ci concentriamo solamente sul valore su cui stiamo lavorando e avremo sempre un'esposizione più o meno corretta. Ma arriviamo finalmente all'oggetto di questo video, ovvero i tempi di scatto. Che cosa sono i tempi di scatto? Fondamentalmente stiamo parlando del tempo necessario per catturare una fotografia. Quindi nel momento in cui noi facciamo una foto è necessario che l'otturatore, una volta c'era l'otturatore meccanico, adesso abbiamo un sacco di otturatori elettronici, è necessario che la macchina rimanga in posa per un dato tempo per catturare quell'immagine. Quindi nel momento in cui noi premiamo il pulsante di scatto, il nostro dispositivo ci mette tot tempo a catturare la scena. Questo tempo può variare in un range che solitamente è situato tra 30 secondi e un 8 millesimo di secondo. Quindi andiamo da un tempo molto lungo, 30 secondi è un tempo lungo in fotografia, a dei tempi molto brevi. Un 8 millesimo di secondo è un tempo di scatto che si usa per la Formula 1, ma neanche, probabilmente è già troppo breve anche per la Formula 1. Quindi è un tempo veramente estremo. Sono due tempi estremi, ma noi abbiamo tutti gli step intermedi. Quindi abbiamo 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi, con anche degli step intermedi, perché digitalmente si possono anche ottenere degli step intermedi. Abbiamo un secondo, abbiamo un sessantesimo, un centoventicinquesimo, un cinquecentesimo, un millesimo di secondo, un quattromillesimo, un ottomillesimo. Quindi abbiamo tutti i tempi intermedi e possiamo dire con estrema precisione alla nostra fotocamera quanto vogliamo che duri la posa. Ovviamente nel momento in cui siamo in priorità di tempi, noi gli diciamo quanto deve durare la posa e gli altri parametri si adeguano automaticamente. Se vogliamo fare una cosa un pochettino più di fino, lavorando in manuale, andiamo a impostare i nostri tempi, poi impostiamo manualmente anche gli altri parametri. Ma questo poco importa, perché oggi ci concentriamo solo sui tempi. Un'altra cosa interessante, un altro ausilio ulteriore che ci viene dato dal digitale, sono le frazioni di tempo, nel senso che una volta avevamo semplicemente i mezzi, quindi da 30 secondi si passava a 15, da 15 si passava a 7 e così via. Adesso invece abbiamo tutti degli step intermedi che sono degli incrementi resi possibili dal digitale, quindi abbiamo la possibilità di scattare a, da 30 secondi non passiamo più a 15, ma abbiamo 20, abbiamo 25, insomma abbiamo degli step intermedi. Questi step intermedi, a mio parere, sono parecchio utili, perché il digitale ha reso possibili tutti questi step intermedi e l'ha fatto anche con la sensibilità ISO, però con le sensibilità ISO io sono un po' contrario a utilizzare gli step intermedi, ho già fatto un video in cui spiego il perché. I tempi invece non sono contrario però, perché utilizzare delle frazioni di tempo non apporta una caduta qualitativa o delle modifiche significative al mio risultato finale, ma è semplicemente un fine tuning per quanto riguarda i tempi, quindi in questo caso sono molto favorevole a utilizzare le misure intermedie. Bene, ma siamo arrivati al momento che in molti stavano aspettando, ovvero andiamo a parlare effettivamente di come usare i tempi e a che cosa servono. Dunque, quando andiamo a decidere che tempo di scatto utilizzare, dobbiamo tenere conto che questo parametro influirà prevalentemente su due fattori, ovvero la velocità a cui si muovono i soggetti nella nostra foto e la stabilità della nostra fotocamera. Queste sono due cose essenziali da tenere a mente quando si ragiona sui tempi in fotografia. Partiamo dal primo punto, la velocità a cui si muove il nostro soggetto. Attenzione, il nostro soggetto può anche essere immobile. Questo microfono è immobile, quindi se io sto fotografando un soggetto immobile, la velocità del mio soggetto è zero e quindi io posso usare qualsiasi tempo e il mio soggetto non cambia perché è statico, perché non si muove. Se stiamo fotografando una persona è già diverso. Per quanto io possa stare fermo, sono un essere vivente, quindi ho il cuore che mi batte, respiro e già solo per questo mi muovo. Quindi mi muovo molto poco perché sono fermo, però già un tempo molto lungo non è adatto a fotografare una persona perché un pochino si muove sempre. Una persona che corre è ancora diverso, perché a quel punto si muoverà a una velocità diversa ancora e una Formula 1 che sfreccia sul circuito si muoverà a una velocità ancora diversa. Dunque per gestire questi tipi diversi di movimenti del soggetto noi andiamo a impostare i tempi di conseguenza e non esiste una regola precisa perché è empirico. Dobbiamo vedere come si muove il soggetto che stiamo fotografando e regolare i tempi in maniera tale da avere il risultato corretto, ma dipende molto dalla velocità. Per cui vado a farvi degli esempi molto banali. Il microfono è fermo immobile, io potrò fotografarlo anche a 30 secondi di posa perché tanto non si muove. Ovviamente 30 secondi di posa con la macchina su cavalletto. Una persona, io mi muovo, anche se mi stanno facendo una foto, quindi cerco di stare fermo, però diciamo che è poco prudente andare sotto un sessantesimo di secondo. Io le persone di solito le scatto tra un centoventicinquesimo e un duecentesimo di secondo, per essere sicuro. Così anche se si muovono le catturo a fuoco lo stesso. Una persona che corre o comunque che si muove velocemente è meglio andare su un cinquecentesimo, mentre un'automobile o una gara di moto andiamo verso il quattromillesimo di secondo. Anche se vogliamo essere super sicuri. Quindi, a seconda di che cosa stiamo catturando, dobbiamo impostare una velocità di scatto diversa. Perché se noi sbagliamo la velocità di scatto, attenzione, se scattiamo il microfono a un quattromillesimo non succede niente, va bene. Ma se scattiamo una persona a un trentesimo di secondo, viene mossa, perché si muove. Così come se scattiamo una gara di moto a un cinquecentesimo, viene quasi certamente mossa. Quindi dobbiamo impostare i tempi nella maniera corretta, a seconda della velocità del soggetto che vogliamo catturare. La seconda cosa di cui dobbiamo tenere conto è la stabilità della fotocamera. Qui è molto più semplice, qui ci sono delle regole un pochettino più codificate per andare a essere tranquilli quando si impostano i tempi in base alla stabilità della propria fotocamera. Innanzitutto bisogna calcolare la regola del doppio, ovvero bisogna andare a vedere la focale che stiamo utilizzando. Per esempio io in questo momento sto utilizzando un 35 mm che però su APS-C diventa più simile a un 50. Diciamo che per essere sicuro di avere la fotografia a fuoco con la lunghezza focale che sto utilizzando, io devo raddoppiare. Quindi sto usando un 50 mm, devo scattare a un centesimo di secondo. Sto usando un 200 mm, scatto a un cinquecentesimo di secondo. Se io raddoppio la mia focale sui tempi, quindi per esempio sto usando un 20 mm, devo scattare almeno a un quarantesimo. Se uso sempre questa regola sono abbastanza sicuro che la mia fotocamera sia abbastanza stabile, perché altrimenti se io sbaglio, rischio che la mia fotografia sia mossa a causa dei miei movimenti, quindi non più dei movimenti del soggetto ma dei miei. Ovviamente io devo tenere conto di entrambe le cose, ovvero se io sono in sicurezza perché ho reso la mia macchina stabile, e quindi per esempio sto utilizzando un 35 mm e quindi sto scattando a un sessantesimo di secondo, ma poi sto fotografando una gara di Formula 1, e a quel punto io sarò stabile con la mia fotocamera, ma il soggetto è troppo veloce e non riesco a catturarlo. Quindi bisogna usare la testa quando si usano i tempi e capire quale delle due cose ha una prevalenza. Una volta messa in sicurezza la stabilità della macchina, bisogna pensare alla velocità del soggetto. Per fare questo bisogna azzeccare quello che viene definito il tempo di congelamento. Quando noi fotografiamo un'azione, un'azione che si svolge nel tempo, quindi abbiamo un qualcosa che si muove dal punto A al punto B, quindi il microfono no, il microfono non si muove, il microfono rimane fermo, o meglio il punto A e il punto B sono esattamente identici. Ma quando noi abbiamo qualcosa che si muove, dobbiamo calcolarci più o meno quanto ci mette il nostro soggetto ad andare dal punto A al punto B. Se noi vogliamo catturare la scia di quel movimento, impostiamo un tempo che includa il tempo necessario al nostro soggetto per compiere quel movimento. Se invece vogliamo catturare il nostro soggetto in un punto preciso, dobbiamo ridurre i tempi in modo che il soggetto venga catturato solamente durante quella frazione di secondo. Per farvi capire meglio, andiamo a fare un esempio. Io ho collocato un orologio automatico sul mio set. Come potete vedere, si tratta di un bellissimo Seiko 5. Ora abbiamo scattato delle fotografie con tempi diversi e andiamo a vedere i risultati che sono stati ottenuti. Noi andiamo a mettere a fuoco e scattiamo una fotografia a un centoventicinquesimo. E come possiamo andare a vedere, la fotografia non è perfettamente a fuoco, ma è abbastanza nitida. Se noi andiamo a cambiare questo parametro, quindi andiamo ad allungare i tempi di scatto, vediamo un po', andiamo a metterci a un secondo, un secondo di tempo di posa e andiamo nuovamente a scattare una fotografia. A questo punto la macchina ci ha messo di più e vedete che il movimento della lancetta è ben visibile nella fotografia. Quindi, a seconda di quello che facciamo, otteniamo risultati diversi. Andiamo a impostare due secondi, quindi il doppio. A questo punto, noi andiamo a scattare la nostra foto che ci mette di più chiaramente a essere catturata, vedete che a questo punto la lancetta tende ad avere un movimento assolutamente visibile e tende quasi a scomparire. Se noi andiamo a scattare a quattro secondi, a questo punto il tempo comincia a essere veramente lunghetto, infatti vedete la macchina ci mette di più a catturare la foto, la lancetta sostanzialmente scompare, perché muovendosi non viene più catturata e quindi abbiamo un effetto completamente diverso. Andiamo a provare a fare il contrario adesso. Andiamo oltre un centoventicinquesimo, qui l'esposizione non me lo consente più, andiamo a un duecentesimo, quindi ben di più. Noi andiamo a scattare la nostra fotografia e in questo caso vedremo che la lancetta viene cristallizzata perfettamente nello svolgimento del suo movimento. Quindi questo tempo di scatto è sufficiente per andare a cristallizzare il movimento della lancetta. Queste sono prove empiriche. Io ho fatto le prove sulla lancetta di un orologio. Prove, lo sapevo già. Sapevo già che a quattro secondi sarebbe diventata invisibile, sapevo già che a un secondo si sarebbe visto il movimento, sapevo già che a un duecentesimo sarebbe stata catturata perfettamente cristallizzata. Quindi sono cose empiriche. Ognuno di noi deve fare delle prove sul suo soggetto. Quindi io sto fotografando il mio cane che corre, le prime volte mi verrà mosso vuol dire che i tempi sono troppo lunghi. Poi faccio delle prove, diminuisco i tempi ma a questo punto la foto mi viene buia allora forse posso riallungare un pochettino i tempi per arrivare a una sana via di mezzo in modo da catturarlo correttamente ma è molto empirico. Quindi non chiedetemi che velocità devo impostare per fotografare il mio bambino che corre perché io non ve lo posso dire. Dovrei vedere a quanto corre il vostro bambino e soprattutto dovrei fare delle prove perché non è che ce l'ho così a mente il tempo esatto. Bisogna fare una prova e cercare di capirlo. Ovviamente questi parametri che vi ho fatto vedere possono essere sfruttati a nostro vantaggio ovvero io voglio cristallizzare l'azione userò un tempo breve ovviamente d'accordo con gli altri parametri perché non sempre si può mettere un 4 millesimo un 8 millesimo di secondo e avere l'esposizione corretta. A volte è necessario aumentare un pochettino i tempi sennò non entra abbastanza luce quindi è sempre un compromesso. Però se io voglio cristallizzare l'azione diminuirò i tempi di scatto questo è pacifico così come se voglio avere l'effetto movimento di un qualcosa che si muove che quindi viene sfocato andrò ad aumentare i tempi. Se io aumento i tempi oltre un certo limite vedete che la lancetta a un certo punto tende a scomparire perché il movimento è come se la cancellasse. Io posso sfruttare questa cosa a mio vantaggio nel senso che se sto facendo una foto di una piazza per esempio e uso un tempo molto lungo le persone che camminano verranno cancellate. Quindi è un giochino molto divertente questo per catturare fotografie di una piazza deserta anche se c'è qualche persona. Se io uso un tempo molto molto lungo quindi superiore ai 30 secondi magari 6 minuti di posa la butto lì con 6 minuti di posa io sono abbastanza sicuro che la piazza sembrerà completamente vuota. Ovviamente per fare questo ci sono dei trucchetti ulteriori bisogna mettere dei filtri ND perché altrimenti avremo troppa luce in macchina. Però questo è il fascino del tempo in fotografia. Si possono fare veramente tante cose dal cristallizzare l'azione di un atleta mentre salta un ostacolo fino a creare l'effetto seta sull'acqua oppure le scie dei fari di un'auto in una fotografia notturna. E ovviamente tutto quello che ci sta di mezzo quindi catturare correttamente il nostro cane mentre gioca o semplicemente fare un bel ritratto. Ognuna di queste situazioni ha un tempo ben preciso o più o meno un range di tempo ben preciso che va impostato per ottenere esattamente quel risultato. A questo punto amici fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate fatemi sapere se usate i tempi se siete soliti fare giochi di questo tipo oppure se li avete scoperti oggi per la prima volta. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che avete imparato qualcosa di interessante. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.